La città di Carosino aderisce alla campagna lanciata dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori, illuminando di rosa nel mese di ottobre Palazzo D'Aiala Valva. In questo ottobre post-pandemia, l'amministrazione comunale guidata da Onofrio di Cillo ha voluto proporre alla comunità il convegno Life is Pink, conferenza chirurgica sulla prevenzione del tumore al seno, conservazione, demolizione e ricostruzione. L'evento ha visto la partecipazione del presidente della Commissione e consulta per le pari opportunità della provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli. Ad offrire ai presenti la sua grande esperienza e professionalità, il dottor Pietro Fedele, chirurgo e senologo. Oggi di tumore di mammella, se la donna è molto accorta e soprattutto segue i canoni della prevenzione, si guarisce. Questo è quello che dobbiamo trasmettere alle donne e quindi stimolarle a fare la prevenzione e a riprendere la prevenzione perché in questo periodo, con la pandemia che c'è stata, molte cose si sono fermate. Non bisogna mai spegnere i riflettori su questo tema e portare sempre avanti un'attività di forte sensibilizzazione per stimolare le donne a prendersi cura di sé. Quale messaggio vuole avere per la comunità femminile in particolare di Carosino a questo evento? Credo che sia importante, insomma, post pandemia o comunque verso l'uscita da questa brutta situazione che ci ha coinvolto, insomma, nell'emergenza sanitaria, ricominciare a fare prevenzione anche perché credo che sia il primo passo per tutelare la vita e la salute delle donne, soprattutto nel territorio ionico.